Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 111 Il vicario di Dibley, una sitcom televisiva britannica con una donna vicario interpretata da Dawn French, racconta la vita di una delle prime donne vicario della Chiesa d'Inghilterra, Joy Carol Wallace. Alcuni anni fa, io e Pip, abbiamo incontrato Joy. Ci ha raccontato una storia di quando era sacerdote anglicano a Londra. Uno dei membri della congregazione era una donna devota di 87 anni, di nome Flory Shore. Flory aveva da poco subito un delicato intervento chirurgico. Le sue prospettive di guarigione erano molto scarse. L'intervento chirurgico andò bene. Quando aprì gli occhi, una delle prime cose che vide fu l'immagine sfocata del suo medico vestito con il camice bianco. Flory sorrise e disse Ciao Dio, sono Flory Shore. Joy disse che questa storia le aveva insegnato due cose. In primo luogo, l'umiltà di Flory. Non si aspettava che Dio conoscesse il suo nome. In secondo luogo, la sua assoluta certezza della risurrezione e di dove stesse andando. La sua certezza della risurrezione si basava sulla pietra angolare del cristianesimo, la risurrezione di Gesù Cristo nel primo giorno di Pasqua. La stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, ora vive in noi, mediante lo Spirito Santo. Un giorno anche noi ci alzeremo e diremo Ciao Dio! Commento ai sapienziali La vita oltre la morte C'è una grande differenza tra vita senza Dio e vita con Dio. 1. Vita senza Dio Coloro che vivono senza Dio tendono a confidare nella ricchezza o in se stessi. Questa fiducia è caratterizzata da una ricerca di status. Le persone ricche possono arrivare a vantarsi della loro grande ricchezza e usare il proprio denaro per impressionare gli altri. Possono anche arrivare a nominare delle terre con il proprio nome. Godono della lode degli altri e si considerano beati. A volte cercano di usare la loro ricchezza per riscattare la propria morte, ma nessuna somma di denaro è mai sufficiente. Alla fine, tutto è inutile, poiché la ricchezza viene lasciata ad altri. Non temere se un uomo arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, infatti, con sé non porta nulla. Che valore, infatti, può avere tutto questo se poi scenderemo a precipizio nel sepolcro? 2. Vita con Dio Coloro che invece vivono una vita con Dio non hanno bisogno di ricercare uno status. Questo perché il proprio status non viene dal successo o dall'accumulare ricchezza, ma dal sapere a chi si appartiene e quanto si è preziosi per Lui. Il nostro riscatto è stato pagato, siamo stati redenti e il nostro futuro è sicuro. Certo, Dio riscatterà la mia vita, mi strapperà dalla mano degli inferi. Una vita con Dio significa vivere senza fine e non vedere la fossa. Il salmista dice «Perché dovrò temere?» La paura è un'emozione umana naturale. Ma con Dio possiamo affrontare ogni paura, avere completa fiducia in Lui per questa vita e per la vita a venire. In questo brano troviamo uno dei pochi accenni dell'Antico Testamento alla vita dopo la morte. L'autore è fiducioso che Dio riscatterà la sua vita, lo strapperà dalla mano degli inferi. La vita con Dio non finisce con la morte, ma continua nell'eternità. Il salmista confida in questo anche se non sa come possa avvenire. La risposta sarà rivelata a tutti con la risurrezione di Gesù. Signore, grazie per la potenza della Tua risurrezione che ora vive in noi. Grazie per averci strappati dalla presa della morte e perché un giorno staremo con Te per l'eternità. Commento al Nuovo Testamento I morti risorgeranno Pensare alla risurrezione e a come sarà la vita dopo la morte non è una cosa che le persone fanno facilmente. Che aspetto avranno le persone? Che tipo di corpo avremo? Come ci relazioneremo con gli altri? Ci sono persone che considerano questo tipo di domande troppo fantasiose o addirittura assurde. I Sadducei dicono che non c'è risurrezione. Si avvicinano a Gesù con una domanda tra bocchetto riguardante una donna che aveva avuto sette mariti. Gli chiedono cosa ne sarebbe stata di questa situazione al momento della risurrezione. Gesù risponde spiegando che la loro domanda è sbagliata perché stanno pensando con una mentalità terrena. La risurrezione trasformerà tutti i nostri rapporti umani e non ci sarà più la necessità del matrimonio come via per dare continuità all'umanità e alle linee familiari. Ma Gesù non si ferma qui. I Sadducei infatti non davano molto peso a quanto veniva detto nell'Antico Testamento riguardo alla risurrezione. Questo perché attribuivano un peso molto maggiore ai primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, i quali non parlavano direttamente di risurrezione. Le affronta quindi nel loro stesso campo da gioco citando proprio uno di questi libri. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del Roveto, quando dice «Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui». In questo modo dimostra di credere non solo nella propria risurrezione, ma anche in una ben più ampia risurrezione dai morti. Coloro che risorgono non possono più morire perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Naturalmente, tutto questo dipende da ciò che Gesù afferma di essere. Gesù non è solo figlio di Davide, ma Signore di Davide. Se allora Gesù è il Signore, tutti possiamo essere certi che la morte è stata vinta. Se crederemo davvero nella risurrezione, il nostro atteggiamento verso ogni cosa nella vita cambierà, compreso il modo di vedere i nostri beni. Come la vedova povera, siamo tutti invitati a donare con generosità, ad essere liberi nei confronti dei beni e disposti a dare tutto ciò che abbiamo in questa vita. Se crederemo, la nostra prospettiva su questa vita cambierà completamente. C'è speranza dopo la morte. Questa vita è solo l'inizio. Signore, grazie infinite perché sei morto per me e grazie per la straordinaria speranza che mi doni attraverso la Tua risurrezione. Grazie perché la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti risusciterà anche noi. Commento all'Antico Testamento Braccia Eterne Una persona che nella sua vita ha avuto un lieto fine è senza dubbio Mosè. Mosè aveva centoventi anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Aveva vissuto conoscendo il Signore faccia a faccia. Mosè è stato usato da Dio in modo grande. Nessun altro, infatti, ha mai mostrato la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Una delle grandi sfide della vita è chiudere bene, avere un lieto fine. Parte di questo lieto fine riguarda la pianificazione della propria successione. Mosè conclude bene la propria vita, ha un lieto fine, ha pianificato la sua successione in Giosuè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Questo è uno dei pochi esempi in cui la benedizione, unzione, di Dio passa da una generazione all'altra. Prima di morire, Mosè benedice tutte le tribù usando parole straordinarie. Ad esempio, riguardo a Beniamino, dice «Prediletto del Signore, Beniamino, abita tranquillo presso di lui. Egli lo protegge sempre e tra le sue spalle dimora». Giunto alla fine, dopo aver benedetto ciascuna tribù, aggiunge «Nessuno è pari a Dio di Jesuron, che cavalca sui cieli per venirti in aiuto e sulle nubi nella sua maestà. Rifugio è il Dio dei tempi antichi e qua giù lo sono le sue braccia eterne». Forse qui si rende conto che la morte non è la fine. Si fida dell'eterno Dio e sa che le sue braccia sono eterne. Questa consapevolezza non rimuove il dolore e la tristezza della morte. Il popolo piange per Mosè e la sua morte. Nella vita soffrire è qualcosa di naturale e importante ed è vitale che lo facciamo. Le nostre emozioni vengono da Dio e non dovremmo reprimerle. Tuttavia c'è differenza tra dolore senza speranza e dolore di un credente che spera nella risurrezione. «Nella mia vita sono stato a molti funerali e spesso ho trovato parole grandi, rassicuranti, confortanti e potenti. Rifugio è il Dio dei tempi antichi e qua giù lo sono le sue braccia eterne». Signore come Mosè fa che possa vivere in stretta relazione con Te riconoscere che solo Tu sei mio rifugio e che le Tue braccia sono eterne. di riconoscere